Siamo in via Favana, proprio dove c'è lo stadio, un piccolo stadio, penso ci sia un oratorio della chiesa e in questa via, passeggiando, troviamo una bella sorpresa. Ecco, questa è la chiesa, qui c'è il campo sportivo e se ci giriamo intorno, accantonato sulla strada principale, troviamo questo Eternit, proprio messo bene lì in bella vista, che insomma, quantomeno segnaliamo.